Fino al 30 gennaio è possibile effettuare online le iscrizioni per l'anno scolastico 2023-2024 a tutte le prime classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado e dai centri di formazione regionale e professionali. Per iscriversi è obbligatorio l'utilizzo della piattaforma del Ministero dell'Istruzione del Merito accessibile al link www.istruzione.it slash iscrizioni online. Le iscrizioni online riguardano solo gli alunni delle prime classi. Per quelle successive l'iscrizione viene fatta ad ufficio dalla scuola frequentata. Per le scuole dell'infanzia statali la domanda, sempre entro il 30 gennaio, va presentata in forma cartacea direttamente alle segreterie delle scuole prescelte. La scuola alla quale iscrivere gli alunni può essere scelta visitando il portale Scuola in chiaro da cui si acquisisce anche il codice identificativo dell'istituto. Per l'iscrizione online è necessario registrarsi in piattaforma con uno strumento di identificazione digitale. Effettuato l'accesso, si procede alla compilazione della domanda con l'inserimento dei dati richiesti. La domanda inoltrata non può più essere modificata. Eventuali variazioni vanno comunicate direttamente alla scuola interessata. Se non si possiede un dispositivo per l'accesso ad internet, va effettuata l'iscrizione attraverso la segreteria della scuola alla quale si intende presentare domanda.